Quindi noi nella misura in cui viviamo in una società complessa, infinitamente articolata, ricca di elementi, di responsabilità, di corresponsabilità anche, siamo comunque parte di un greggio. Il greggio ha a che fare con il disco regime perché è un'esigenza del regime che è greggio. Non può esistere un regime se non c'è un greggio. Ma c'è un pezzo del contenuto in disco regime che si chiama Il Male. È una cover, tra virgolette, perché non è propriamente una cover di una canzone, ma di un testo, o meglio di una poesia, scritta da Montanaghi. Tutto sotto gli occhi di tutti, solo che tanti fanno fatica a vederla. O non vogliono vederla. Ci è venuto in aiuto un fotografo molto bravo, si chiama Roberto Benegoni, che ha realizzato delle fotografie, che ha abbinato con i testi di disco regime per il libretto del CD. E la copertina invece è stata realizzata da Eric Lacorbeil, che è un artista multimediale. Si occupa di tante cose e si è occupata anche in maniera assolutamente egregia della copertina del lavoro. Una serie, una somma di numeri, un insieme di punti attaccati, fenomeno strano. Abbiamo voluto cercare di valorizzare un po' questo aspetto della spersonalizzazione. Gaber stesso durante il teatro canzone, nei suoi spettacoli, diceva non è importante che ci sia un'oceana di persone, ma già un numero di persone che la pensano allo stesso modo, anche un numero piccolo di persone, ma che la pensano tutti allo stesso modo, può già fare una massa. Una somma di uomini, un insieme di uomini uniti, fenomeno strano. Un altro brano a cui io sono legato per come è venuto fuori nell'arrangiamento, e anche questo è un parecchio stravolto rispetto alla versione originale, è l'animale sociale. Io sono l'animale sociale. Sono tante persone, tanti animali in gabbia, le persone guardano gli animali in gabbia, li ammirano, li temono anche in qualche modo, gli animali sono tutti depressi, si dovrebbero probabilmente suicidare. Questa è un'ottima immagine per il disco regime, come per i centri commerciali. Ma la gabbia è la quale? La gabbia, in realtà ci sono le sbarre, ma poi c'è un po' di gente che da una parte delle sbarre e un po' di animali che sono tra l'altro, però lo so. Qual è la gabbia? El uomo in gabbia o l'animale? Io sono l'animale sociale, mi abatto l'ora variante, lo sbarro seale. Tira che va! Tira che va!